A Steve piacerebbe comprare una macchina di lusso, ma non guadagna abbastanza. Incontra degli amici che gli parlano di criptovalute e ne acquista qualcuna. Ma senza alcuna esperienza perde buona parte del suo investimento. John si affida a Bison Trading. Bison Trading è una piattaforma che ti aiuta ad investire nelle criptovalute attraverso i bot, programmi intelligenti in grado di individuare i momenti migliori in cui acquistare o vendere le criptovalute. I bot lavorano per te in autonomia, mentre ti dediche ad altro. I bot di Bison Trading consentono guadagni anche in condizioni di mercato poco favorevoli. Steve è determinato a recuperare il suo investimento. Trova su internet Bison Trading. Decide di utilizzare Bison Trading e seguire gli utenti iscritti che hanno creato i bot più vantaggiosi. Contatta John per chiedere di servirsi del suo bot vincente. John riceve dei guadagni extra da questa condivisione e Steve inizia finalmente a guadagnare. Bison Trading. Investire in modo intelligente.